Il sito internet del liceo Nievo di Padova ha subito nella mattina di venerdì un attacco informatico da parte del Moroccan Islamic Union Mail. Gli hacker hanno bloccato la home page del sito e è apparsa la scritta rossa su un fondo nero con un video di alcuni minuti. Il video riportava scritte in arabo ma era parlato in inglese. Non è la prima volta che i siti internet di scuole italiane subiscono questo tipo di attacco. Sono già state avviate le indagini da parte della Digos e della polizia. Non si tratta di un messaggio jihadista ma di messaggi religiosi di chiara matrice islamica. Si parla infatti di Mahometto e vengono fatti riferimenti alla Bibbia. Probabilmente si tratta di propaganda. Quel video è già presente anche su YouTube.